Siamo pronti per il 6 d'agosto con il Green Pass a vivere quello che sarà la nuova espressione della comunità. Chi si vaccina è premiato, può muoversi in libertà. Chi non si vaccina è giusto stia a limitazioni di mobilità e a limitazioni di movimento perché oggettivamente oggi tutti si possono vaccinare. In Toscana siamo arrivati alla fine di stasera a 4 milioni e 200 mila dosi di vaccino somministrate quindi chi non si è vaccinato, a parte i ragazzi più giovani che sono comunque già prenotati, lo ha fatto per sua scelta.